sono uscita di casa per recarmi alla sfilata di ferragamo insieme alla mia amica sara nella speranza di incontrare camilla mendes h veronica lodge speranzosa sono arrivata la fermata del tram che ho atteso per svariati minuti una volta dentro ho atteso altro tempo a metà strada il tram ci ha fatti scendere ho quindi dovuto prendere un ulteriore autobus la sfilata sarebbe dovuta iniziare alle 9 30 io sono arrivata sul posto alle 9 e 28 camilla mendes è arrivata alle 9 e 26 hai visto anche tutto il dietro però era vestita bene cazzo sì c'è i pantaloncini e giacca fucsia tipo xia tipo xia tipo becfilo classico di ferragamo capelli corti rossi meri alta come te quindi c'è speranza No, sono troppo triste Sono veramente triste Sadness Per consolarmi siamo andate ad annegare i dispiaceri nei pancake Lo so, questo video è assolutamente inutile Tanto quanto il mio tentativo di incontrare Camilla Quindi vedetelo un po' come un modo per farvi percepire il mio disagio E niente Alla prossima Ma è una gioia